Benvenuti, questo oggi è piacere di proporvi in locazione questo appartamento in via dall'Orto 3. L'appartamento è posto a un terzo piano, il riscaldamento è centralizzato, la porta è blindata e abbiamo anche l'ascensore. Gli infissi sono di penultima generazione con doppi vetri. Allora, questa è la sala di fronte a noi, aperta, quindi una zona fruibilissima. Vi faccio vedere l'ingresso. Questo è l'ingresso particolarmente lungo e ampio. Entriamo nella camera da letto, questa è l'unica camera da letto che abbiamo a disposizione. Il contratto stipulato è un contratto 3 più 2 in cedulare setta con l'obbligo di residenza. Usciamo dall'appartamento, dal balcone, questo è quello che possiamo vedere. Nelle immediate vicinanze, come possiamo ben vedere dal video, c'è il supermercato Carefour, quindi comodissimo. Quindi siamo a due passi proprio da Corso Sardegna. Continuando con la visita, ci dirigiamo verso quello che è la cucina, un'altra zona di disimpegno, una cucina ampia, vivibilissima, come si può ben vedere. Guardiamo la faccia. Di fronte a noi abbiamo Corso Sardegna, come vi dicevo. Usciamo dalla cucina, i pavimenti sono in graniglia la Genovese, qua c'è il bagno con il suo bel box-dodge. Quindi facendo il repilogo veloce usciamo dal bagno. La cucina, la zona di disimpegno, questa che è la sala. E terminiamo la visita sulla camera matrimoniale. Ci troviamo in via dall'orto.